Siamo nel parcheggio dell'U2 quartiere sud di Magenta, Silvia Minardi si sta proponendo ai cittadini di Magenta, io cittadino di Magenta che non conosco bene la politica, perché dovrei votare Progetto Magenta, quindi Silvia Minardi. Progetto Magenta è una lista civica vera formata da persone che hanno messo a disposizione della città la loro esperienza, il loro tempo, la loro disponibilità. Votare Progetto Magenta in questo momento significa esprimere una volontà di cambiamento, la città ha bisogno di ritornare a macinare chilometri, ha bisogno di tornare ad essere luminosa, vitale, ha bisogno di tornare e ritornare a sorridere. In questo momento Progetto Magenta vuole lanciare un'idea di città positiva. Quindi Progetto Magenta sulla città ha voglia di fare, giusto? Molto, ha molta voglia di fare. E la vostra convinzione finale qual è? Noi vinceremo le elezioni amministrative del 2017. Grazie, buon lavoro. Grazie. Ok, ok, mezzogiorno e mezzo se vuole, ok?